Luci di contorno poco artistiche che conducono semplicemente verso il centro della città di Salerno. È troppo chiamarle d'artista per i commercianti e gli abitanti della zona orientale della città di Salerno che si trovano d'accordo con quanto dichiarato nei giorni scorsi dal consigliere comunale d'opposizione Dante Santoro. Lo scintillio delle decorazioni non è così appetibile quanto quelle installate nel percorso del centro cittadino. Perché mai i turisti dovrebbero venire nel quartiere Mercatello, Pasta e Torrione quando poi le luminarie non hanno nulla di particolare ma si allineano a luci che vengono montate anche in altre occasioni di festa. Così questa mattina in tanti rispondendo ai nostri microfoni per valutare realmente al di là delle polemiche che potrebbero avere una matrice politica quanto le luci della zona orientale della città risultano gradevoli agli occhi dei salernitani. Luci o non luci sicuramente il malcontento è legato all'assenza di una vera attrazione che possa spostare flussi di persone anche in questa parte della città chiamata orientale. Le luci di Pastena le piacciono oppure no? Abbastanza, sì sì. Sono gradevoli? Sì, sì sì. Quindi non è d'accordo con chi fa polemica e dice che le luci della zona orientale della città sono diverse, sono più brutte rispetto al centro? Ogni tanto è bello pure cambiare, mica facciamo tutte le cose uguali per tutta la città. Il problema di Pastena è che non vogliono cercare di far emergere questa zona negativamente perché c'è più possibilità di parcheggio, ci sarebbe uno sviluppo per gli alberghi e per tutto. Questo non fa bene a nessuno, non è che concentrando tutto al centro. Le persone del centro si lamentano come abitanti perché non riescono a muoversi. Qui hanno messo le luci di supporto, cioè quelle luci che rimangono e loro cercano di dare un qualcosa come se fossimo appunto commercianti di serie B. Qui commercianti di serie B non ci sono perché noi paghiamo tutti le tasse e siamo persone che credono in Salerno ancora. E guardi che la pubblicità per Salerno non è positiva quest'anno perché io e noi abbiamo tanti clienti che vengono da Torino, da Firenze che alloggiano al Fiorenza, alloggiano negli alberghi e che trattiamo prodotti di qualità e loro girano, non è il cliente occasionale che mangia il panino e finisce lì. Quindi può portare al commerciante un incremento. Ma se loro non sviluppano questa zona perché ci sono degli interessi, perché non hanno i soldi, c'è qualcosa che non quadra. Su avviso quindi queste luci sono semplicemente degli addobbi natalizi e quindi non sono un'attrazione per i visitatori. Assolutamente, non c'è una ricerca dell'artista, non c'è una ricerca del percorso di cui loro parlano. Noi ci dobbiamo basare su cose che devono far venire le persone e entusiasmarle perché oggi questo si va cercato. Adesso verranno perché erano attratti da altre luci precedenti. Si avrà una delusione e Salerno cadrà nella sua penombra e finisce lì. Non sono male. Le piacciono quindi queste luci che hanno installato qui a Pastena? Sì, sì. Anche se forse l'anno scorso erano un po' più belle. Ti ricorda quali erano quelle dell'anno scorso? C'erano delle reti, ispiravano un po' al mare, almeno se non ricordo male. Forse erano più belle quelle dell'anno scorso, a dire il vero. Ti piacciono queste luci che hanno installato qui a Pastena? Non è che eccessivamente. Perché, perché? Ma non mi piace. E le forme, e i colori? E i colori e le forme. Le piacevano quelle dell'anno scorso? Sì. No, non mi piacciono. Perché? Perché sono brutte. Ritiene che siano luci che servono semplicemente? Sono luci brutte per me, non lo so come definirle. Ma erano più belle quelle dello scorso anno? Ma sì, quelle dello scorso anno, ma se mettevano qualcosa di nuovo forse era meglio. Con tutti i soldi che spendono penso che facevano bene. Diciamo la verità, forse voi commercianti di Pastena vi attendevate luci un attimino che potessero essere più un'attrazione per i turisti e che possano spostarsi anche dal centro della città verso la zona orientale. Sì, sì, sì. Poi avevano detto che facevano qualcosa alla villa, al parco del mercatello, ma non hanno fatto niente. Fanno tutto per sereno. Poi ci chiudono il lungomare e quindi non c'è parcheggio e qui non si ferma, c'è solo caos. I vigili che si mettono qui non ci fanno lavorare, solo in questa zona qui. Dalla prima piazza fino alla villa comunale, alla villa Carrara. E fanno sempre questa zona qui. Multe e i clienti non vengono più. A lei piacciono queste luci che hanno installato qui a Pastena? Direi abbastanza. Forse in passato, dicevo con mia moglie, erano più comprenti, c'era un arco maggiore, per cui dava l'impressione di essere più piene. Aveva un senso di pienezza. Adesso così, insomma. Sono molto molto colorate, questo è bene. Questa è una polemica che dura da anni. La zona orientale della città di Salerno ha luci diverse da quello del centro della città. Quest'anno ancora più è scattato un po' di malcontento. Perché si ritiene che queste luci non siano poi alla fine un'attrazione per i visitatori? Il problema non è la qualità delle luci, né la specie di luce. Il problema è in genere che si sta acuendo la differenza fra centro e periferia. Una volta si diceva che le periferie non esistevano più. Purtroppo non per il motivo delle luci, per me non esiste questo problema. Si apprezzano le luci perché sono un segno di festa. Il problema è la maggiore problematicità che deriva dai servizi, dalla polizia. Adesso vengo dalla lungomare, davanti a ogni negozio, in specie macellai, ci sono dei rifiuti, dei cartoni abbandonati. Non essendoci un vigile di quartiere che possa controllare, ognuno fa il proprio comodo.